Buonasera da Sarocco di Capo del Monte, il Mundialito, quinta edizione, quarta giornata, e battono Napoli, 8 a 7, migliore in campo, ce ne sono due questa sera, Salvatore Izzo, consegnavo la medaglia, complimenti, e il potere di sempre cercare, vieni qua, però siamo voi con tutta la squadra, e battono Pè, Deciam, avventurato Enrico, avventurato Vittorio, e migliore Enrico, ci manca il capitano, 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 passiamo la parola a Salvatore, Salvatore senti, super prestazione da parte vostra, avete messo davvero tutto il cuore, la rinta, anche un po' di tecnica stasera si è visto, bei gol, fino alla fine avete lottato, i 3 punti sono arrivati. Abbiamo lottato e questo ci ha portato la vittoria a casa, speriamo che tutte le partite si svolgono così. Senti, cosa è mancato fino adesso, queste triggari che avete perso, avete visto questa sì? La partecipazione del gruppo, un gruppo unito, stasera l'ho visto più unito il gruppo. Siete scesi in campo già con una testa unita, una testa. Senti Giuseppe, tu che nel secondo tempo sei stato anche tu protagonista, sei stato protagonista con belle parate, cosa vuoi dire alla tua squadra? Eh, se è così, è meglio che Peppe non viene proprio qui. Senti, gli obiettivi, cosa vi prefissate adesso? Sì, la parte al fair play, la Champions League e la vittoria del torneo. Senti, vabbè, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? No, alla squadra. Alla squadra, se voglio che tu una dedica speciale a qualcuno? Vabbè, a Giuseppe che sta passando a detto un brutto periodo, a Vittorio mio cognato e a tutto il gruppo. Ok, complimenti ragazzi, alla prossima, bella vittoria, ciao. Grazie.